I scienziati ritengono che 65 milioni di anni fa, un asteroide abbia colpito la Terra con forza del nostro pianeta come incendio, cremato. Un asteroide da 2 metro di 10 km, il grande da Montaeret, con il final di un'azione grande popolo del Messico, spregionato un'azione grande popolo del Messico, un penaccio elusivo formato dal vapore agro e dalla roccia. Ci fu un arremoto, in un'area di onde, e anche centinaia di metri. La Terra trenò, un terremoto di magnitudo 12. Sti detreti precipitarono sotto il pianeta, furono scagliato in l'atmosfera e tornarono in superficie con un'energia di 20 milioni di megatonte. Poche ore, dopo l'imano, scoppiano incendi in tutti i conti. Non l'ho aggiunto io, chi è questo? Chi è? No, la tu. Eh, buonasera. 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 Eh, eh, è caduto. Ah, è caduto. Caduto, è caduto. Ciao, Master X. Benvenuti nel mio like. Da dove, da dove, di dove sei? Di dove, da dove dici? Ti sei svegliato adesso? Perché? Clicca, clicca, clicca. Oh, ti ha messo... No, guarda, ho fatto un fantasmino. No, guarda, ho fatto un fantasmino. So io. Oh, oh. Mi senti? Non ti senti niente. Scendi e risalto. Scendi. Non ti fa male. Meno droga. Scendi piano, che ti fa male. Ti stai rispettando. Sono interoperato. Ma se fa a fare scena? Io faccio in agente, non so buono. Ma tu? Non fai scendere questo. Ci stanno... Due, ma chi è che l'ha invitato? Oddio. Non ho capito niente. Ma è diventato una lembra. Alì, sembra drogato. Sembra che l'hanno drogato. Ti sei vestito per stasera. No, vengo. Che hai fatto? Non ho sentito niente. Non ho sentito niente. Problemi diretti. Ma io, questo secondo me si è fumato qualcosa prima di accendere TikTok. Ciao. Cioè io non ho capito come ha fatto entrando. Ma manco io l'ho capito, ti giuro. Qualche Acre? Qualche Acre ci sta aggrando i profili intanto, immagina. Non riesco a fare lo scena. Come si fa per fare scena una persona? Ma questo è una brava. Spiegate. Questo è tutto che è. Oddio, devi essere da una testa. Chi chiede? Ma chi è che fa? Accetto? Siete voi? Sì. Ok. No, ma io perdo. Mamma mia, non mi stracciava il taro. No, no, non ce so. Lei va del grino, ride, mamma. Guarda, ma non mi stracciava il taro. Aline, diciamo. Oh, bello, invita qualche amico tuo. Questo non so neanche che sarà. Ma non so come rimuoverlo. È questo il fatto. Ora rimuoverlo, ma non so. Questo sembra drogato. Sembra che l'hanno boh. Oddio. Oddio. Magari tu mi ricordi che sei vestito per Halloween. Ma io perdo. Aline, mi si è nuda. Secondo me mi si è nuda. Mi si è nuda. Non la ricorda. Ma cazzo come se spoglia. Con la forza di pensiero, adesso non è lì. No, guarda. Ce n'è la gente. Ciao Andrea, 170 TikTok. Bella, benvenuta nella live. Quanto a dire, questo male che c'è. Cosa è messa? Sta piangendo, lì. Sta piangendo, poverino. Questo sta proprio fuori, ragazzi. Bello, ci ha allevato. Però, ma qui, dà, mi chiedevo. Ma hai dei metodi di vostro tipo strano, qui. Non mi è piaciuto togliermi. Ma adesso ho contento. No, è sicuro. Perché questi stanno in casa. Non si riva. Non si riva. Non si riva. Aline, un drogato della Madonna. Ma capisco, qualche cosa che dice. Ma c'è, Toma manca in diretto. Se si, fai lì la sua live. Ah, no, l'ho mutato io. Ora faccio parlare senza che parolacce. Smutalo un po'. Ciao!